Una donna incinta alla guida di un'auto accompagna il marito gravemente ferito al distretto sociosanitario di Nardò, ma alle ore 16 lo trova chiuso. Gli operatori del 118 erano fuori per gli interventi e la guardia medica priva in serata. A soccorrerlo ci hanno pensato tre autisti, mossi dal senso del dovere e di responsabilità. Ci siamo trovati davanti a una scena terribile vedendo un ragazzo con il petto squarciato da un pezzo di riflessibile che si è saltato, non abbiamo capito bene. Di conseguenza con uno straccio sul petto si reggeva a malapena perché stava per collassarsi. Io non mi sono fatto prendere dal panico perché ormai ho le tempra abbastanza robuste. Sono corso subito dentro al nostro ufficio, abbiamo preso un lenzuolo di quelli per la biancheria, gliel'ho portato subito, li ho pressato sul petto in modo che potesse bloccare questa emorragia che era continua. Abbiamo cercato di dargli un po' d'acqua rianimandolo e nello stesso tempo abbiamo chiamato il 118 che era già stato allertato pare dalla signora. E comunque da lì a breve aggiungeva l'assotto, dopodiché i sanitari hanno messo il ragazzo in sicurezza, lo hanno cercato di soccorrere e quindi poi è stato trasportato a Lecce, di più non so. Una storia che sicuramente si concluderà a lieto fine, ma non sempre così. Come può un centro come Nardò, che nel periodo estivo si vede triplicare il numero della popolazione, non disporre di un centro di primo intervento? Abbiamo assistito a una scena che mai vorrei più che si ripetesse. L'appello che faccio in questo momento è a Emiliano che si mettesse una mano sul cuore e desse a questa città onorata, la più grande della provincia di Lecce, per creare almeno un punto di primo soccorso o di primo intervento, ma che sia un punto di primo intervento H24, che ci sia un medico quando arriva una persona che ha bisogno di un primo intervento di guarigione. Come faceva questa signora incinta a portare il marito, tutti e due giovanissimi, il marito a Gallipoli, a Lecce, a Copertino, quando si è in preda a un panico terribile nel vedere che gli sta morendo l'uomo accanto?